Stefan Rio I won't hold you back è il rifacimento della canzone Another Chance di Roger Sanchez che è un'altra che lì intorno a fine anni 90 io storpiavo di brutto e come la facevi? We snap and keep them on a chance però le sai, vedi che le sai le canzoni perché l'effetto è quello l'importante se hai davanti un'altra persona che non capisce l'inglese l'effetto è quello lei sa tutte Leandro da Silva è arrivato il momento di seguire un'altra strabiliante e fantastica puntata di un personaggio amato da grandi e piccini e chi è? L'ape Maya adesso ci scrive Omar da Milano Maya e l'orticello che bella giornata il sole è caldo caldo ed è apissimo ciao Willy ciao Maya hai sentito che caldo? si suda tanto tanto che bello quando si suda quando tutto il corpo suda e senti le gocce che scorrono giù per il collo la schiena, le mani non c'è le mani senti Maya io vado all'orticello di mamma vuoi venire con me? non lo so non mi fa impazzire l'idea vorrei fare qualcosa di eccitante ma guarda che a raccogliere gli ortaggi ci si diverte ci sono i pomodori le belanzane le tucche i cetrioli i cetrioli? eccola i cetrioli i cetrioli che bello io adoro i cetrioli andiamo presto andiamo ne voglio prendere decine centinaia migliaia ah cetrioli cetrioli perché mi dentro l'hamburger piace? ci sono tante cose vedrai che ti piaceranno tutte a me ad esempio piace la fava sono piccole e leggere poi ne puoi prendere quante ne vuole ah Willy no a me gli ortaggi piccoli non mi piacciono se devo scegliere tra i piselli è una bella zucchina io scelgo una bella zucchina grande lunga tozza ah 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 e poi il fiore Willy il fiore mi fa impazzire zucchina 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 maia maia guarda che bel prezzemolo lo prendiamo dai Willy ma che ci facciamo con il prezzemolo? i coriandoli per carnevale? boh la mia mamma lo usa quando fa il pesce ah senti Willy l'orticella è bellissimo eh però sento che manca qualcosa sai stasera vorrei fare un bel minestrone caldo caldo perché io adoro le cose calde ah 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 buono il minestrone forse vuoi le cipolle maia vuoi l'aglio il sedano la carota no grazie anche se la carota non è riparare oh guarda Willy guarda cosa ho trovato dove? cosa? cosa hai trovato? i peperoni i peperoni ho l'imparazzo della scelta gialli rossi verdi oh quanti peperoni grandi grandissimi ah 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 che bei peperoni oh ah 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 non posso Willy devo scappare ho il rischiamo del peperoni viva il peperoni io la peperoni la adoro però mi sa più simpatico Willy Willy mi ricorda un po' si muove il girasone mi assomiglia è un guai però mi sta guardando in cagnesco il girasone il girasone ice 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 baby